Vegeta contro Frost Nell'episodio in cui Vegeta affronta Frost si nota che Vegeta si trasforma in Super Saiyan riuscendo a sconfiggere Frost con un solo pugno, scaraventandolo contro la cupola e rompendola. Lord Beerus, dopo che Frost è stato sconfitto, esamina la mano di Goku e riesce a farlo partecipare nuovamente al torneo perché fa vedere il segno della puntura inflitta da Frost. Nel frattempo Lord Ciampa fa costruire una seconda barriera vicino al ring e inserisce una nuova regola che prevede la squalifica per i combattenti che la toccheranno. Infine, quando Frost è stato squalificato, si nota che cerca di rubare il cubo trasportatore di Ciampa e il monte prea in oro del torneo. Viene visto inizialmente da Vados, poi entra in scena Hit, ovvero un altro membro della squadra del Sesto Universo, quindi viene riportato in tribuna. Il prossimo avversario che dovrà affrontare Vegeta sarà Magetta.